Vi sei trovato il morto in giardino? Purtroppo il morto me lo sono trovato io questa mattina che ero da sola. Tornare da un weekend in montagna e trovarsi il cadavere di un uomo in giardino che poi ricostruendo si capisce fosse un ladro. È successo qui a casa della famiglia Bertoli al numero 12 di Vicolo degli Scaglioni la scoperta fatta dalla padrona di casa. Questa mattina alle 8 e mezzo dovevo andare in palestra sono uscita e come sono arrivata vicino alla macchina mi sono accorta che praticamente non avevo le chiavi. Allora mi sono girata e girandomi ho visto alla mia sinistra abbiamo una specie di gradini che porto in una cantinetta e ho visto una macchia blu. Sì, come una cosa blu. Allora ho fatto due passi, sono andata vicino e praticamente ho visto che ero una persona distesa a terra. Dico la verità, in quel momento ho preso una paura micidiale e non ho pensato al fatto che potesse essere morto o cosa. Avevo paura che simulasse e che magari adesso con quello che si sente magari mi dava un colpo o cosa del genere per cercare di entrare in casa. L'uomo trovato morto è un montenegrino di 30 anni che aveva addosso tutti gli attrezzi del mestiere, ovvero tutti gli arnesi atti allo scasso. Stando alle ricostruzioni si stava arrampicando sulla grondaia nel tentativo di entrare in casa attraverso una finestra. Quando è caduto si è rotto l'osso del collo ed è rimasto lì. Il fatto è successo o nella notte tra venerdì e sabato o in quella tra sabato e domenica. Ed è stata proprio la padrona di casa a notare la grondaia rotta. E poi quando hanno constatato che veramente era morto e mi sono accorta perché dall'attrio diciamo c'è una finestra che guarda. Quando sono andata per guardare questo qui per vedere e che mi ha telefonato anche il 118 e ho detto guardi se per me non respira. E a quel punto mi sono accorta che la grondaia era completamente staccata. Si stava arrampicando sulla grondaia per entrare in casa ed è caduto. Ed è caduto praticamente. Ecco diciamo che non è stata una bella esperienza. Ecco questo devo dire la verità. E' ancora un po' scossa. Adesso guardi ero molto più tranquilla stamattina di quello che sono adesso. Adesso magari devo portare fuori il cane così mi fa un certo che uscire, devo uscire col buio così insomma.